Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro XRaman Gaming, oggi siamo su Clash Royale a aprire un baule magico Sì, proprio un baule magico, prima abbiamo il baule omaggio che non avevamo trovato un cazzo E ok ragazzi, siamo di nuovo sul account di Usney, non vi ricordate che avevo aperto il baule leggendario su questo account Con il mio amico e oggi proverò, cioè non proverò, aprirò baule magico Allora, vediamo quante epiche da, tre epiche, decennumerare, non da sei carte, ok Ragazzi, io spero di trovarli la leggendaria, però nei baule magici non ha troppa vita per trovarli Cioè, non si trova mai la leggendaria, pochissimi la trovano Però noi speriamo di trovarli Apriamo il baule magico adesso Ok, questo baule contiene una bellezza di 536 euro Un barbaro Un barbari Un domatore Tre mega minion Tre scherzi 72 spiega e goblin Non ci credo ragazzi Non ci credo Ragazzi Insomma Non ci credo ragazzi, giuro Giuro su Dio se trovo Se trovo lo stregone elettico Chiudo il canale, cioè non chiudo però me ne vado via Ragazzi Una Non ci credo, una leggenda Ragazzi se fosse un trollo Vabbè Spero la principessa stregone di Ghiac No, stregone elettrico La principessa ragazzi Apriamo tra Tre Due Uno E la leggendaria Oh mio Dio ragazzi Non ci credo ragazzi Non ci credo ragazzi Quanto sono fortunato Oh mio Dio Facciamo la screenshot Ragazzi Se è un sogno allora non voglio svegliarmi eh Se è un sogno non voglio svegliarmi mai Ragazzi Ho trovato Lo stregone elettrico ragazzi Non ci credo Voglio tantissimo i live E guardate ragazzi Non ci credo Ancora ragazzi Mi vedete a piacere ragazzi Eccolo qua Lo stregone elettrico ragazzi In live La leggenda Un'altra leggenda In live Che due giorni Tre giorni fa Avevo trovato un'altra leggenda In live E adesso trovo un'altra leggenda In live E ragazzi Andiamo così Andiamo così La metterei proprio in questo deck Non questo Questo deck ragazzi Non ci credo però La leggenda in live Oh mio Dio C'è anche lo stregone elettrico Proprio lo stregone elettrico ragazzi Che fortuna Allora Ragazzi Mi viene un Non ci credo ancora eh Vabbè ragazzi Andiamo a fare un'altra Una battaglia In live E poi Guarderemo Cosa fare Avanti Buona fortuna Tutti ragazzi Buona fortuna A O Non so come si chiama Beh ragazzi Direi che non è Non è andato male Cioè Cioè Non lo sapevo Se trovavo Una leggendaria Però Fortuna che l'ho trovata Non me l'aspettavo Con sta leggendaria Giuro che non me l'aspettavo Allora ragazzi Cosa possiamo fare Il nostro Stregone no Non ancora Ecco Adesso si Buono ragazzi Ah puttano Cioè Avete visto Che figata Quanto danno Ma fa un danno pazzesco eh Oh mio Dio ragazzi Fa un danno pazzesco Ok ragazzi Scusate per il microfono Però Cioè Forse Sentirete L'audio Un po' Un po' Brutta Però Scusate Perché non ho ancora Comprato il microfono Per Però Com'è che si chiama E per Giocare Le partite Cioè Per parlare Quando gioco Ok ragazzi E Adesso Però Non ci credo ancora Ragazzi Che ho trovato La legendaria In live La legendaria In live Ragazzi Adesso Chiudiamo il video Tra poco Lo so che la memoria È piena Sempre questo messaggio Di merda La memoria È sempre piena Non lo so perché Però Ragazzi Arriviamo a 20 like Se ci riusciamo Iscrivetevi Il canale Se Non ci riuscite Beh Fa niente Però Iscrivetevi È Ok Se vi piace Ok Aspettiamo Che si carichi Elisir E poi Di chiudere Il video Perché Ha paura Se non Vabbè Chiudo il video Qua ragazzi Ragazzi Chiudo il video Proprio qua Perché Non lo so perché Però Possiamo anche Aspettare Possiamo anche Aspettare Se ci riusciamo E vai Dai 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 Un altro hint È bella Tutti No 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 Wow wow Calmo Calmo Ok ragazzi Adesso Questa partita L'abbiamo vinta Di bella Bella partita Ragazzi Dico subito Al mio amico Che ha trovato Una leggendaria In live E adesso Chiudiamo il video Con Una corona Ok Ok ragazzi Iscrivetevi Nel canale Se vi piace E mettete Like Se ci riuscite E ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti